Scusate, non ce l'ho fatta, ridevo come un matto al gufio a sentire. Amici, con il gufio. Correva l'anno 1620. Senti, Ilaria, che puoi fare? S'è ricercato per aver osato mettere in discussione il fatto che chiamiamo questa era Giacobina, quando il nome del rese è Giacobbe, non Giacobbe. Guarda, no, perché Giacobbe era di troppo e saccavalla completamente a Homer. Proviamo a stringerla un po'. Per forza, ma di una parola la devi scrivere. Quinta. Mamma, noi dobbiamo proteggerlo, guarda, sta pregando. Devo avvertirti però, gentil donna, anche per questi tempi sono considerato un pessimo marito. Va bene? Sì. Sì. Correva l'anno. Correva. Eh? Correva l'anno 1620. Dopo protestante. Dopo... No, le prozzi tutte. Tutte stanno. Quando arrivano i nostri piatti, sta pussuto! Sta sputando fame! Sta sputando fame! Sta sputando fame! E questo pesce spada? Che state facendo, teppisti? Rispondete, o vi mollo come un contratto telefonico schifoso! Scusate, quest'affare spara da solo. Comunque, che stavate dicendo? No! Non ci fate caso! Wow, il numero sul barciapiede! Così il locale mi sale di classe! Sì, finalmente le cose cominciano a girare per il verso lungo. Mi sei attaccato. 16. 17... Seconda. si sta dicendo che saper fare le addizioni a due cifre non è stregoneria si fa con una voce sorciccia si è tipo l'esercista ah ok 17 terza 74 ciò ciò del calcio ciò del calcio Bum, si, bom, si, bom, bom, bom